Il treno Euro City 30 di Trenord proveniente da Venezia Santa Lucia è diretto a Vieto Umbano Il treno Euro City 30 di Trenord proveniente da Venezia Santa Lucia è diretto a Vieto Umbano Il treno Euro City 30 di Trenord proveniente da Venezia Santa Lucia è diretto a Vieto Umbano Il treno Euro City 30 di Trenord proveniente da Venezia Santa Lucia è diretto a Vieto Umbano Il treno Euro City 30 di Trenord proveniente da Venezia Santa Lucia è diretto a Vieto Umbano Il treno Euro City 30 di Trenord proveniente da Venezia Santa Lucia è diretto a Vieto Umbano Il treno Euro City 30 di Trenord proveniente da Venezia Santa Lucia è diretto a Vieto Umbano